siete pronti per uno spettacolo tutto in video? sì perché l'associazione essere felici è pronta con una sorpresa sabato 25 aprile online io sono a casa show così potrete godervelo comodamente con la partecipazione di tutti i nostri partner amici artisti modelle e modelli non potevamo mancare ricordatevi sabato 25 aprile sulla pagina ufficiale di essere felici e sul canale youtube ciao